Con Carlton Myers, campione della nazionale, della fortitudine a Bologna, ricordatissimo di anni 90 e 2000, che presenta a Oristano il Cray Camp, di cosa si tratta? Tanto mi fai sentire vecchio, anni 90 e 2000, però vabbè, grazie, ma si tratta di un camp multisportivo, in realtà facciamo sia a Roma che a Torino, e quest'anno la prima edizione appunto qui a Oristano, grazie a Cray e al gruppo Abigroup, e niente, ci sarà divertimento, anche un po' di tecnica, perché vogliamo che i bambini, i ragazzi comprendano, quantomeno capiscano le varie discipline o i fondamentali delle varie discipline. E insieme a Roberto Porceddu e la sua organizzazione, che è il Joy Camp, speriamo di dare a tutti quanti, di fargli passare, quantomeno una piacevolissima estate in compagnia del sottoscritto e di tanti altri allenatori.